E possiamo cominciare. Bentrovati, bentrovate al secondo panel della mattinata. Il titolo è Le mani sulle città, mafie, cemento e beni confiscati. E a proposito di appalti, subappalti e appalti di subappalti, ricordo come la scia di morti sul lavoro in Italia sia lunga. In queste ore il pensiero va alle vittime, ai familiari delle vittime della strage avvenuta a Martedì a Bragi, nella centrale idroelettrica del lago di Subiana, Bologna. Chiamo sul palco gli ospiti di questa sessione, Franco Latorre, attivista e figlio di Pio Latorre. Benvenuto. Può accomodarsi. L'assessore al welfare e salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolè. Chi arriva tra qualche minuto, gli concediamo questo ritardo, visto che è rimasto qui seduto con noi dall'inizio del nostro festival. La dottoressa Simona Ronchi, direttrice della sede di Milano dell'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati. Benvenuta. Il professore Francesco Chiodelli dell'Università e del Politecnico di Torino. Benvenuto. Autore, tra l'altro, del libro Cemento Armato, la politica delle legalità nelle città italiane, che è in vendita, peraltro, fuori dalla sala, grazie alle librerie, appunto, in Audi del Cinema. E infine chiamo sul palco la collega Barbara Sorrentini, giornalista di Radio Popolare, che modererà il nostro panel. Grazie. Intanto buongiorno a tutte e a tutti, che bella platea di studenti e studentesse, attentissimi, poi lavorerete, immagino, su tutto questo, verrete interrogati, non da noi. Allora, questo credo sia il terzo appuntamento della giornata di questo festival, giunto alla seconda edizione, è molto importante, il fatto che ci siano delle scuole ne è la dimostrazione, perché il fenomeno mafioso in Lombardia, come in tutta Italia, non è stato sconfitto. In questo incontro parleremo parecchio anche di beni confiscati, beni confiscati alle mafie. Ce ne sono tantissimi in Lombardia, poi con i numeri andremo dopo a raccontare anche qual è il percorso e come sono stati destinati dopo il loro sequestro e la confisca. Insomma, un percorso molto lungo che racconteremo in questo incontro. Però iniziamo, gli ospiti sono già stati presentati da Esther, poi mano a mano ve li ricorderemo. Parleremo prima di tutto con Francesco Chiodelli, qui alla mia destra, che ha scritto questo libro che si chiama Cemento Armato. Credo che tra l'altro sia anche in vendita fuori per chi è interessato a leggere. Edito da Bollati Boringhieri, La politica dell'illegalità nelle città italiane. Il titolo di oggi è appunto Le mani sulle città, che in realtà prende spunto da un film che se vi capita di vedere, non so se si ritrova sulle piattaforme, però magari su Rayplay, che tiene il film del passato e li conserva ancora, vi invito a vederlo. È un film difficile di Francesco Rosi, che rispetto alla cinematografia di oggi ovviamente ha un linguaggio molto diverso, però credo che possa interessarvi per quello che racconta. Proprio da questo spunto partiamo. con Francesco Chiodelli, visto che in questi giorni si parla di nuovo di condoni, Matteo Salvini sta di nuovo muovendosi su quella politica che abbiamo conosciuto in passato con Berlusconi, però arriva da molto prima. Ti chiederei di raccontarci qual è stato il percorso dei condoni fino all'obusivismo in Italia e poi magari arriveremo anche ai beni confiscati perché il tuo libro parla anche di questo. È il microfono, sì. Bene, buongiorno, grazie dell'invito. Immagino che essendo studenti abbiate ben altro da fare rispetto a sfogliare i giornali la mattina o ascoltare i radiogiornali. Se l'aveste fatto avreste sentito parlare, come Barbara diceva, di piano casa o pace edilizia. In verità si tratta semplicemente di un giro di parole per indicare un condono edilizio. Che cos'è il condono edilizio? È una legge dello Stato attraverso la quale una serie di irregolarità in campo edilizio, a seconda delle leggi, la costruzione di un piano in più a casa vostra, di una stanza, la costruzione di una veranda non autorizzata, la costruzione di un'intera casa illegale viene condonata, ossia viene sanata con un colpo di spugna, magicamente, dietro al pagamento, diciamo così, di una multa, tutto diventa regolare. A questo punto voi dovreste dire, ok, ma tutto sommato cosa ce ne frega? In fin dei conti è una cosa molto lontana dalla vostra realtà. Voi siete studenti delle scuole superiori, i vostri pensieri non sono sicuramente quelli legati all'abusismo edilizio in giro per l'Italia. Vorrei provare a convincervi del fatto che se pensate così vi sbagliate. Vi sbagliate non solo perché si tratta di un problema, quello dell'abusismo edilizio, che devasta il nostro territorio, fa morti, come abbiamo visto in molte occasioni, distrugge il paesaggio, rende inabitabili parte importante del paese, le privatizza, ma anche perché molti di questi temi in verità vi interessano direttamente. Se voi non pensate all'abusismo edilizio, ma pensate al problema della casa, questo vi tocca molto più da vicino. Qualcuno di voi magari vorrà andare a fare l'università a Roma? A meno che sia piuttosto ricco, la brutta notizia è che non potete andarvene a Roma. Perché? Perché le case costano troppo. Se volete prendere in affitto una camera, costa 600 o 700 euro al mese. Quindi ai voi, se non siete ricchi, le vostre scelte si riducono. Lo stesso per molte altre parti d'Italia. Qual è il tema? Il tema è che molti di queste questioni che noi consideriamo un po' tecniche, sicuramente un po' noiose, sono in verità centrali per la vita di molti di noi. e il problema è che nel considerarle noiose e ancillare, potremmo dire, la nostra quotidianità, c'è qualcun altro che se ne occupa. Il ministro di turno, il sindaco di turno, il politico più o meno arrembante. E quando va bene promuove dei provvedimenti che sono semplicemente inefficaci. Dice di fare una cosa per risolvere il problema e il problema non si risolve. Quando va male vi prende in giro, vi racconta cose che non sono vere, semplicemente dei falsi. Provo a raccontarvelo molto velocemente partendo dalla questione del condono edilizio. Ora, non voglio entrare nel merito di un giudizio rispetto all'ultimo provvedimento, quello che è in campo però a oggi, non si sa ancora se diventerà un vero provvedimento. Voglio provarvi a fare un'operazione che faccio in questo libro, che insomma sono dieci anni di ricerche condensate in un libro che ora cerco di condensare in pochi minuti. Qual è lo scopo di questo libro? È prendere un tema e farvelo capire in maniera abbastanza semplice, per quanto non semplicissima. I temi a volte non sono semplificabili, sono complessi e vanno trattati nella loro complessità. Provare a contestualizzarlo per capirlo e poi starà a voi giudicarlo. Vi do alcuni dati rispetto ai condoni edilizi. Ve ne do tre. Il primo dato è il numero tre. I condoni edilizi in Italia sono stati tre per ora. 1985 è il governo Craxi, 1994 è il governo Berlusconi, 2003 è il governo Berlusconi. Poi vi spiego perché vi dico questi dati. Il secondo dato, quanti sono secondo voi le domande di condono presentate nel corso di questi tre condoni edilizi? Chiaramente ogni domanda di condono è una sorta di ammissione del fatto di aver violato la legge. Ok? Quindi tu vai in comune e dici mi dispiace, ho costruito un piano in più a casa mia, non lo farò più, condonomelo. Quanti sono? Vi danno un'entità del fenomeno. 15 milioni. 15 milioni di domande di condono e poi vi dirò perché questo dato è interessante, ma potete cominciare a capirlo. Vi dà l'idea dell'entità del fenomeno che stiamo trattando. Il terzo dato che è ancora più interessante è questo. E di questi 15 milioni di domande, quanti ancora giacono nei cassetti delle pubbliche amministrazioni in attesa di essere verificate, di essere o autorizzate oppure respinte. Ricordatevi che il primo condone è del 1985, sono passati 39 anni. 5 milioni. Ci sono 5 milioni di domande, in base agli ultimi dati che abbiamo, che non sono recentissimi, ma sono gli unici che abbiamo, di cui 3,5 milioni risalenti al 1985. Se noi processassimo tutte queste domande, incamerassimo gli introiti delle multe, diciamola così, di queste domande, sembra che, secondo i conti che sono stati fatti, che lo Stato guadagnerebbe 21 miliardi di euro, che è di più del costo del ponte sullo stretto, giusto per tornare a un ministro che vuole costruire cose molto importanti dal punto di vista economico. Perché vi dico questo? Perché questi tre semplici dati, che sono tra i molti dati, ci raccontano di alcune cose, anche qui in maniera molto schematica. La prima è che i condoni edilizzi sono una ricorrenza in Italia e sono stati promossi soprattutto da alcuni partiti politici che hanno come, potremmo dire, target elettorale, cioè come gruppo al quale parlano, essenzialmente la classe media, ossia la classe di coloro i quali posseggono una casa. Perché in Italia la casa è un bene molto diffuso e chi non la possiede solitamente sono i poveri, sono i migranti. Quindi sono partiti che guardano soprattutto alla classe media. Secondo tema, l'abusismo edilizio è un fenomeno di massa che riguarda tutto il paese, quindi non siamo immuni nemmeno qui. Il mio libro comincia con una storia che è ambientata a Desio, a 15 km da qui in Nord Italia, ed è tutto un libro composto da storie che non sono le storie dei soliti sospetti, Catania, Palermo, Reggio Calabria, sono le storie di Desio, di Brescello, di Bergamo, sono tutte storie periferiche nella nostra geografia mentale stereotipata, ma che ci raccontano come l'abusismo edilizio, così come tutti gli altri fenomeni illegali di cui parlo, siano fenomeni che non hanno una geografia puntuale ma sono spalmati. Riguardano tutta l'Italia, quindi anche i paesi in cui voi abitate. Quindi dicevo, l'abusismo edilizio caratterizza l'Italia dagli anni 50 almeno in avanti. Se voi andate a Roma, andrete, perché siete giovani, a bere qualcosa al Pigneto. Un posto molto noto, molto carino. Dovete sapere, e chi ha visto i film di Pasolini lo sa, che il Pigneto è un quartiere di origine illegale, irregolare, abusiva. Il 37% della capitale italiana di Roma è di origine abusiva. Poi è stato negli anni irregolarizzato, ma questo ci racconta come l'abusismo edilizio, soprattutto nel dopoguerra, è stato un fenomeno enorme che ha riguardato che cosa? Ha riguardato le masse di popolazioni che si spostavano dalle campagne alle città, dal sud al nord, e arrivavano in città e non avevano modo di trovare una casa, perché lo Stato non aveva politiche abitative, perché il mercato non era così veloce, e quindi cosa facevano se l'autocostruivano? C'è anche un bellissimo libro che si chiama Milano-Corea, che racconta del fenomeno dell'abusismo edilizio degli anni Sessanta, di questo abusismo di necessità dei poveri che arrivano in città a Milano. Quindi se voi andate sempre a Desio o nei paesi dell'intra milanese, sappiate che gran parte di quei paesi negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta è stato costruito irregolarmente. Perché vi dico questo? Perché se si guarda la storia e si guarda alla storia in modo approfondito, si vede che l'abusismo però è cambiato. L'abusismo non è più quello dei poveri che si urbanizzano e costruiscono irregolarmente perché le case non ci sono. Oggi non siamo più di fronte, in gran parte dei casi, all'abusismo di necessità, ma quello che viene chiamato abusismo di convenienza. Che cosa vuol dire? Che voi costruite abusivamente perché? Perché li risparmiate. Non pagate le tasse, pagate meno il suolo, pagate meno la mano d'opera. E questo è una parte dell'abusismo, una parte importante che spesso riguarda soprattutto le aree più pregiate, le coste, le aree montane turistiche. Vi sarà capitato di andare su Airbnb, io ho questa deformazione, vado su Airbnb, cerco un appartamento per le vacanze e spesso le vedi le case abusive che sono pure su Airbnb. Quindi c'è tutto un circuito di abusismo di edilizio che viene pure messo a profitto in queste piattaforme. Questo per raccontarvi che cosa? Che abbiamo una storia articolata di abusivismo edilizio, abbiamo una storia articolata che è stata affrontata anche con i condoni edilizi, che però non siamo riusciti, i condoni edilizi non sono riusciti né a risolvere, né a farlo smettere, questo abusivismo e lo Stato non è stato in grado di gestire questi condoni edilizzi perché se noi abbiamo ancora 5 milioni di domande che già c'erano nei cassetti, probabilmente il primo provvedimento di un ministro che tiene a risolvere il problema dell'abusismo, il problema degli italiani che non riescono a vendere la propria casa perché è una casa che sotto procedimento di condono non può essere venduta, sarebbe di risolvere il problema di questi 5 milioni di italiani che posseggono una casa e che non possono vendere perché è congelata a causa delle lungaggini della burocrazia. Siamo a un festival che si chiama Festival Internazionale dell'Antimafia, l'altra domanda che vi salterà in mente sarà, ebbene, che cosa c'entra tutto questo con la mafia? Nulla, o meglio, in molti casi non c'entra nulla e questo è un altro dato. L'abusivismo non è una questione di mafia, non sempre, non nella maggior parte dei casi, tuttavia l'abusivismo è anche questione di mafia, potremmo dire che è una spia. Se voi vedete che in un luogo c'è molto abusivismo sapete che in quel luogo ad esempio c'è una diffusa cultura della illegalità, della tolleranza dell'illegalità. il mio libro si apre con una storia di Desio, a Desio c'è moltissimo abusivismo nord Italia e guarda caso c'è anche molta corruzione in ambito urbanistico e guarda caso è uno dei luoghi in cui l'andrangheta si è infiltrata per prima negli anni 70 in Lombardia. Quindi che cosa vi racconta questo? Che lo sviluppo immobiliare sia esso regolare o irregolare è da sempre terreno di infiltrazione della criminalità organizzata. Diceva Ingroia quando era pubblico ministero il mafioso se deve scegliere sceglie l'edilizia. solitamente noi ci siamo abituati a pensare al mafioso che sceglie l'edilizia soprattutto per gestire alcune fasi del processo produttivo quando si scava per fare una casa o quando si fornisce il cemento. Ora questi due settori sono tipicamente colonizzati dalle aziende criminali anche in certe parti della Lombardia. Se voi andate per strada vedete un cantiere con una ruspa che scava e scommettete che quella ruspa è in mano alla criminalità organizzata statisticamente ci azzeccate perché in molti casi è così non sempre ma in molti casi a volte la criminalità organizzata costruisce anche abusivamente a volte costruisce legalmente perché lo fa per molti motivi ora non ho modo di spiegarvi e concludo subito in un paio di minuti ma vi do solo un altro dato sempre sui giornali qualche giorno fa c'era campeggiava sul Corriere della Sera in particolare la notizia di una compravendita immobiliare in centro Milano costo del palazzo 1,3 miliardi di euro un palazzo ok molto sontuoso molto grande in centro Milano perché vi dico questo perché vi dà l'idea del perché il settore dello sviluppo immobiliare sia così attraente perché ci si fanno dei profitti enormi soprattutto in certe zone del paese dove il mercato immobiliare è molto potremmo dire chiammeggiante torniamo e qui concludiamo al condone edilizio perché vi ho raccontato il condone edilizio non solo per una questione di attualità perché racconta bene il sottotitolo del mio libro che il titolo è il cemento armato il sottotitolo è la politica dell'illegalità qual è la tesi che sostengo la tesi che sostengo è che molte volte è lo Stato a produrre illegalità volente o nolenti direttamente o indirettamente e il condone edilizio è l'esempio perché un condone edilizio in sé non produce illegalità ma vi faccio un esempio voi siete in quarta o in quinta farete sicuramente o forse io lo facevo al vostro tempo latino era un flagello se la professoressa di latino dicesse se non fate i compiti prendete quattro voi non fate i compiti prendete quattro ma dopo un mese la professoressa dice vabbè dai condoniamo cancelliamo questi quattro però dalla settimana prossima ve li do quattro voi siete discoli non fate i compiti prendete un altro quattro la professoressa dopo un mese ricondona tutto e va avanti così cosa voi percepite? percepite che quella legge quella norma vi do quattro se non fate i compiti non vale nulla perché tanto prima o poi arriverà un'altra norma un'altra legge imposta dalla professoressa che cancella quanto voi avete fatto ora il problema dei condoni non è il condono in sé è la ripetitività dei condoni se tu fai tanti condoni alimenti l'aspettativa che prima o poi arriverà un altro condono e quindi cosa si fa se tu sei un attore razionale e non hai troppi scrupoli costruisci illegalmente perché tanto sai che prima o poi sarà facile condonare ora il problema dei condoni edilizi anche di quello di Salvini indipendentemente dal contenuto è esattamente questo se tu ripeti ciclicamente il condono alimenti l'abusismo edilizio il caso con cui apro questo libro è esattamente questo di un imprenditore immobiliare che quando sa del condono costruisce abusivamente un piano in più in un'una delle proprie palazzine e guarda caso è tra l'altro un imprenditore diciamo così all'interno di giri opachi e l'ultima domanda con cui chiudo e vi provo a rispondere è ma perché lo Stato alimenta o almeno una parte dello Stato alimenta anche le pratiche illegali ad esempio tramite il condono lo fa essenzialmente perché ne estrae dei benefici ad esempio delle rendite elettorali non a caso un condono edilizio adesso si parla quando fra pochi mesi ci sono delle elezioni non a caso un condono edilizio riguarda una parte consistente del Paese quindi qual è l'idea? è che l'illegalità faccia comoda certe parti dello Stato certi politici certi ministri certi sindaci perché se non esistesse non ci sarebbe materiale per costruire campagne elettorali molto semplici dicendo facciamo un condono facciamo un provvedimento che sana alcune irregolarità quindi l'idea è che l'illegalità in ambito urbano perlomeno sia anche il prodotto intenzionale di certi attori pubblici perché è desiderata tutte le storie che ci raccontiamo che deve essere repressa deve essere combattute in verità sono storie di una parte dello Stato mentre ce n'è un'altra soprattutto una parte della classe politica che invece la desidera perché è il modo attraverso il quale una serie di rendite economiche di clientele elettorali vengono costruite quindi tutto questo per raccontarvi che se vi può sembrare una cosa astrusa parlare di abusivismo edilizio o di questioni di illegalità urbana in verità sono questioni socialmente centrali o eticamente centrali e che riguardano anche i vostri territori motivo per il quale forse sarebbe meglio cominciare a interessarsene a capirle prima che qualcun altro lo faccia per voi grazie grazie Francesco Chiodelli ho visto che guardavi l'orologio e ti avrai condonato qualche minuto perché ho visto che sei stato precisissimo e guarda passando alla questione dei beni confiscati se se vuoi darci un aggaggio nel senso che non è una domanda vera e propria ma è soltanto un passaggio perché alcuni anche alcuni di questi luoghi edifici creati appunto con l'abusivismo poi sono stati cioè la legalità poi arriva nonostante i condoni ogni tanto in certi casi esatto grazie dell'aggancio perché mi permette di dire cosa è un libro mio che uno potrebbe dire crudamente pessimista e realista racconta il lato scuro di tutte queste questioni c'è però anche il lato luminoso il lato luminoso è ad esempio quello di quella parte dello Stato che invece riesce a intervenire per prendere un bene sottrarlo alle mani criminali e restituirlo alla collettività quindi come dire si sta bene questo panel in cui io vi faccio la parte destra e la parte pessimista invece poi arriva la parte dello Stato che funziona che noi dobbiamo supportare che queste cose cerca poi di rattrizzarle ecco e infatti per questo passiamo a Simona Ronchi che è dirigente dell'ufficio della sede secondaria di Milano dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati agenzia di cui non molti conoscono l'esistenza sicuramente chi ancora studia forse non lo sa perché non è sempre sui giornali magari si parla dei beni confiscati dopo ma non si sa come ci si arriva quindi adesso ti faccio un po' di domande insieme che tu prenditi il tempo che vuoi i minuti verranno condonati su quello non c'è illegalità allora qual è intanto il ruolo di questa agenzia e qual è la situazione poi del utilizzo dei beni confiscati quanti sono facciamo anche qualche numero se è possibile magari sugli ultimi su cui state lavorando e raccontarci un po' l'iter l'evoluzione del vostro percorso lavorativo grazie allora io ringrazio molto per il graditissimo invito perché è sempre un piacere essere presenti quando si tratta di divulgare la cultura della legalità perché è una delle mission dell'agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e la criminalità organizzata devo dire che quando ho cominciato a leggere il libro del professor Chiodelli poi l'ho fatto con un po' di timore perché io per 27 anni ho fatto il segretario comunale e quindi in quelle dinamiche mi sono ritrovata e per fortuna non sono stata però in quei comuni della Lombardia in altri comuni ma non in quelli allora io sono Simona Ronchi e sono la dirigente della sede di Milano dell'agenzia la sede l'agenzia ha la sede principale a Roma ma ha diverse sedi secondarie sparse in tutta Italia una di queste è quella di Milano poi abbiamo quella di Reggio Calabria che è quella storica quella di Napoli e quella di Palermo la sede di Milano ha una competenza molto vasta non ha competenza solo per Milano ma ha competenza per tutto il nord Italia esclusa l'Emilia Romagna e quindi comprende regioni molto vaste anche molto importanti economicamente il Piemonte la Lombardia il Veneto la Liguria e poi altre più piccole ma comunque sempre molto molto importanti un ringraziamento a Vicky Mafia e al dottor Farina per aver dedicato proprio un panel ai beni confiscati che è un argomento difficile e poco conosciuto soprattutto al nord Italia dove certe tematiche come diceva prima il giornalista vengono date molto per scontate e si tende a non ritenerle importanti secondo me la cosa peggiore che possa capitare in una comunità e che la gente rimanga indifferente è già stato detto nella giornata di oggi alla delinquenza al malcostume al non rispetto delle regole all'illegalità e secondo me i beni confiscati alla criminalità organizzata e soprattutto la loro destinazione rappresentano invece un grande volano verso la legalità io dico sempre che sono beni che attraversano varie vite diverse vite quella privata non sempre edificante perché sono beni di proprietà di persone che hanno commesso dei crimini e poi invece quella bella la seconda vita quella dell'utilizzo sociale della restituzione alla collettività cioè la restituzione a tutte quelle persone che anche voi che in un qualche modo sono state offese dalla commissione dei reati sui propri territori la grande presenza di pubblico oggi sicuramente un pubblico molto molto giovane e di questo ringrazio i professori ma anche di un pubblico di un pubblico adulto è la dimostrazione che la comunità è assolutamente interessata alla legalità è interessata alla conoscenza e io ho sempre la speranza ma questo sicuramente succederà che giornate come quella di oggi possano contribuire come auspica anche il professor Chiodelli nel suo libro a far nascere una nuova consapevolezza collettiva e che in questa rinascita possano entrare anche i beni confiscati e la loro destinazione intanto qui ci sono i ragazzi e io vi chiedo e mi chiedo ma cos'è la legalità la legalità significa rispettare le leggi ma rispettare le regole anche quelle quelle più banali rispettare le regole stabilite dal legislatore e non solo dal legislatore perché poi ci sono anche regole morali regole religiose ma regole che permettono a tutti di vivere in pace e mi riferisco anche alle regole basilari del vivere comune quindi non attraversare la strada quando il semaforo è rosso attraversare sulle strisce non buttare i rifiuti per strada non commettere abusi edilizi e personalmente sono una fanatica delle regole rompo sempre le scatole a tutti con le regole perché secondo me consentono di convivere con gli altri in modo sereno rispettando i diritti delle libertà altrui e semplificando anche la vita la vita di tutti naturalmente è necessaria un'educazione alla legalità in cui la scuola e oggi la dimostrazione e la famiglia rivestano un ruolo cruciale e oggi gli illustri ospiti di questo di questo panel e anche quelli di questa mattina hanno cercato di spiegare come si possa educare alla legalità in diversi modi e noi cerchiamo di farlo io e i funzionari dell'agenzia attraverso i beni confiscati e la criminalità organizzata e soprattutto attraverso il riutilizzo per finalità sociali l'agenzia è un ente molto giovane è nata nel nel 2010 e quindi rispetto ai comuni per esempio dove voi sicuramente sarete andati a fare la carta d'identità è proprio nuovissimo perché sono solo 13 anni e adesso vi spiego dedico proprio 5 minuti a spiegarvi perché è nata l'agenzia perché il legislatore ha ritenuto importante creare questo nuovo ente pubblico e anche in questo vi dico non stancatevi mai di capire la razio la motivazione delle cose che succedono intorno a voi di corlocarle anche storicamente in modo di capire di rendervi consapevoli di quello che sta accadendo intorno a voi perché solo rendendovi consapevoli solo informandosi studiando acquisendo consapevolezza e capacità critica si può pensare di combattere l'illegalità ma soprattutto di vivere in una società complessa come quella che in modo in modo semplice nella società complessa in cui ci troviamo attualmente a vivere il fenomeno mafioso è un fenomeno che è già conosciuto nel secolo scorso ma solo dal 1982 viene riconosciuto come reato ed è bene ricordare e questo io lo sottolino sempre anche con molta emozione poi oggi c'è il figlio di uno di questi personaggi illustri tutta la normativa che riguarda questo fenomeno è macchiato del sangue di uomini che hanno letteralmente combattuto per riuscire a far approvare la normativa nel 1982 infatti dopo l'omicidio di Pio Latorre e del generale Carlo Alberto della Chiesa viene approvata la legge 646 dell'82 che è la legge Rognoni Latorre che introduce proprio nel nostro ordinamento giuridico la fattispecie del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso quello che avrete sentito sicuramente nominare il 416 bis del codice penale e non solo perché proprio questa legge introduce nel nostro ordinamento le misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca dei beni che si affiancano a quelle personali che invece sono state rese ancora più stringenti quali per esempio il carcere vi spiego meglio e anche tentando di semplificare molto per certe categorie di soggetti e per certe categorie di reati oltre al carcere vengono anche tolte le case le macchine il denaro cioè tutto quello che è stato acquisito con i soldi guadagnati proprio con queste attività illecite la legge rognoni la torre rimane ancora oggi la legge fondamentale nella legislazione antimafia e perché rimane fondamentale perché ha valorizzato il lato economico della lotta alle mafie attraverso proprio questi strumenti di aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati i legislatori dell'epoca erano sicuramente uomini illuminati perché hanno avuto la grande intuizione di capire che l'obiettivo finale delle mafie e dei delinquenti è sicuramente l'arricchimento e dunque vanno colpite proprio nei patrimoni illecitamente accumulati come farlo? Attraverso queste misure di prevenzione patrimoniale dei sequestri e delle confische noi lo vediamo tutti i giorni nella nostra attività lavorativa io e i funzionari che collaborano con me in agenzia ai mafiosi sicuramente fa più paura la confisca dei beni frutto dei commessi dei reati commessi piuttosto che la condanna ad alcuni anni di reclusione e quando si tratta di immobili quando si tratta della loro casa ancora ancora di più noi veramente facciamo molta fatica negli sgomberi di queste di queste case confiscate proprio perché questi soggetti non vogliono allontanarsi da quello che è il loro nido da quella che è la loro la loro casa la mafia naturalmente capisce in quei momenti negli anni ottanta tutto quanto questo studio fatto dai politici di allora fosse pericoloso per loro e hanno tentato in tutti i modi di non fare approvare questa normativa ma nonostante tutto nonostante tutto nonostante quello che è successo in termini anche di vite dedicate la legge non fu affermata e venne proprio approvata arriviamo poi negli anni novanta negli anni novanta e siamo nel novantadue e dopo le stragi del novantadue vengono emanate norme ancora più stringenti che hanno come elemento comune ancora quello di inasprire ancora di più queste misure patrimoniali dei sequestri delle confische ed è proprio per questa motivazione che man mano crescono sempre di più cresce sempre di più il numero di questi beni prima sequestrati e poi confiscati al punto del segno che il legislatore ritiene di dover creare un ente che possa dedicarsi nel modo più veloce e nel modo più veloce possibile della destinazione di questi beni stessi nell'ambito di questa evoluzione un ruolo fondamentale riveste poi la legge 109 del 96 promossa da Libera perché questo è proprio il vero nostro segno distintivo dell'Italia perché questa legge disciplina proprio la destinazione dei beni confiscati prima sequestrati per i confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata definendone il loro riutilizzo a fini sociali quindi si arriva attraverso tutta questa evoluzione normativa al 2010 e alla creazione dell'agenzia oggi siamo nel 2024 la situazione è molto cambiata lo dicevano già stamattina il presidente del tribunale e il procuratore del tribunale di Milano la mafia e le organizzazioni criminali non uccidono come allora sono molto meno cruente soprattutto al nord non succedono questi fatti ma si manifestano in modo suddolo in modo nascosto difficile da capire da interpretare perché infiltrano l'economia infiltrano le amministrazioni locali tantissimi comuni e questo avviene non solo al sud ma anche al nord ed è per questo che sono importanti giornate come oggi perché con le giornate come oggi si rende consapevole la popolazione soprattutto la popolazione più giovane di questo di questo fenomeno tra l'altro io dico sempre noi tutti giovani adulti dobbiamo essere molto orgogliosi della normativa antimafia e della capacità che ha avuto questa normativa antimafia di adattarsi ai tempi moderni e di adattarsi nei confronti di un nemico che porta avanti posizioni diverse da quelle che sono state portate avanti appunto nel passato si tratta di una normativa che ci viene copiata e per cui c'è interesse in tutto il mondo e io dico sempre e non si tratta di cibo o di moda perché su questo siamo sicuramente i più bravi ma anche per questa normativa c'è veramente un interesse enorme ed è per questo che l'agenzia il direttore dell'agenzia è impegnato in un'attività anche di divulgazione di questa di questa norma non solo in Europa ma anche in tutto il mondo nell'America Latina quindi ci sono state varie varie interlocuzioni con vari paesi recentemente anche con il Messico e con il Cile e questo perché? Perché ce le invidiano tutti e perché sono così tanto interessati? Perché è una normativa con una caratteristica particolare e qui ci ritorniamo a quello che è il titolo del nostro panel odierno perché è una normativa portatrice di valori morali di valori educativi e questo perché questo utilizzo dei beni confiscati per finalità sociali è qualcosa che travalica la semplice sanzione nei confronti di chi ha commesso il reato il soggetto che delinque sicuramente mette in conto che possa arrivare il carcere mette in conto anche che possa arrivare la deprivazione dei suoi conti correnti della sua casa quello che assolutamente non mette in conto è che la sua casa possa essere utilizzata da terzi che la sua casa possa diventare una caserma dei carabinieri che la sua casa possa essere utilizzata per le donne vittime di violenza cioè praticamente assistiamo ogni giorno applicando questa normativa alla perdita di potere proprio di questi soggetti di questi soggetti criminali perché laddove c'era violenza laddove c'era criminalità adesso ci sono belle cose come vi dicevo prima trasformazione sociale alloggi per famiglie in difficoltà alloggi per vittime donne vittime di violenza poi qui abbiamo l'assessore del comune di Milano con il quale collaboriamo tantissimo che vi potrà dire quali sono state le destinazioni del comune del comune stesso ecco naturalmente vi dico gli uomini che lavorano in agenzia sono persone normalissime persone però che come i magistrati come i poliziotti come i carabinieri i militari dell'esercito hanno scelto di fare il loro piccolo passo per la lotta il loro piccolo pezzo per la lotta alla criminalità questo è un sistema quello dei beni confiscati che funziona solo se esiste una pluralità di soggetti una pluralità di soggetti che fanno di tutto per far funzionare questo sistema perché bisogna fare le indagini e queste le fanno donne e uomini motivati perché sono indagini molto complesse indagini anche di economia adesso molto complicate con le criptovalute poi ci sono i magistrati che devono fare le sentenze anche queste sono sentenze molto complesse e poi arriva l'agenzia dei beni confiscati arriva la prefettura ma arrivano poi gli enti che con noi collaborano per la destinazione e quindi i comuni la città metropolitana le regioni tutti gli enti che collaborano poi nella fase della destinazione dei beni dei beni dei beni stessi ecco diciamo che adesso salto tutta la parte giuridica dell'agenzia di cos'è l'agenzia e arrivo a quella che è la fase che più contraddistingue questa materia cioè la fase della destinazione come avviene cioè una volta che noi che all'agenzia arrivano i beni sequestrati e confiscati definitivamente come avviene la destinazione di questi beni avviene mediante una serie di richieste di manifestazioni di interessi che noi mandiamo a tutti gli enti che da codice antimafia possono utilizzare questi beni e sono l'agenzia del demanio per le forze dell'ordine la regione la provincia i comuni e istituiamo una conferenza dei servizi una conferenza dei servizi che dal 2021 è la modalità ordinaria di destinazione di questi beni che cos'è questa conferenza dei servizi non è nient'altro che una riunione attraverso un tavolo a cui si siedono tutti i soggetti che sono interessati appunto a questa destinazione in modo tale che ciascuno possa presentare la propria proposta per la destinazione dei beni dei beni stessi e naturalmente ogni ente poi produrrà quello che è l'atto per poter acquisire questi beni il comune farà delibere di giunta il demanio farà delle dichiarazioni delle lettere e così via questo della destinazione e questo della conferenza dei servizi è un momento particolarmente significativo perché è significativo perché è il momento di conclusione di un lavoro immenso fatto dalle forze dell'ordine dai tribunali dalle prefetture senza il quale non si arriverebbe a quella che è la finalità ultima proprio data dal legislatore cioè la destinazione di questi beni a finalità sociali istituzionali e quindi la restituzione alla collettività stessa ecco ed è proprio in questa fase nella fase della destinazione che noi veniamo poi a conoscenza per la maggior parte dei beni confiscati della presenza di abusi di vizi ecco questo per ritornare la maggior parte dei beni confiscati sono gravati da abusi edilizi e questo è uno dei problemi dei beni confiscati il primo problema è quello finanziario cioè che si tratta di beni che molto spesso hanno bisogno di manutenzione di ristrutturazione e naturalmente i comuni non hanno quelle risorse per poterlo fare il secondo problema è comunque quello degli abusi edilizi per cui si tratta di beni che così come sono non sarebbero utilizzabili ecco magari passiamo perché manca poco tempo abbiamo ancora due interventi allora passerai la parola all'assessore alle politiche sociali del comune di Milano Lamberto Bertolè assessorato che si occupa appunto della gestione mette a bando i beni magari con te se racconti questo secondo percorso e come vengono destinati spesso senza scopo di lucro questa è una delle chiavi poi forse c'è stato anche un passaggio nel frattempo sì grazie intanto un saluto a tutti e a tutti vi vedo un po' stanchini quindi prometto che sarà molto molto veloce ma partirei da un'immagine io a me piace pensare ai beni come delle pietre d'inciampo immagino che tutti voi conosciate le pietre d'inciampo che sono un dispositivo di memoria potentissimo perché cosa ci dicono ci dicono che quelle cose che studiamo sui libri che ci raccontano nei film avvenute negli anni 40 sono avvenute davvero qua nei luoghi che frequentiamo oggi una pietra d'inciampo davanti a un portone di una casa ci dice che da quella casa lì un giorno è uscita una persona e non è più tornata ed è potentissimo perché ci aiuta a contestualizzare a capire che è vero che non è una cosa avvenuta lontano chissà dove ma sugli stessi marciapiedi che calchiamo tutti i giorni ecco i beni confiscati in una città come quella di Milano hanno tra le altre cose che sono state dette anche questo valore ci dicono concretamente in modo plastico quanto la presenza mafiosa sia forte radicata sul territorio e concretamente dove si attua dove si concretizza la lavanderia il box la palazzina in un certo quartiere gli appartamenti magari in una casa residenziale apparentemente tranquillissima allora segnalare la presenza dei beni confiscati è un modo per tutti noi di vedere plasticamente la presenza mafiosa qua e non voltare la testa dall'altra parte questo mi sembra uno dei temi centrali dei beni al di là del valore specifico non a caso come Comune di Milano da anni e Barbara Sorrentini lo sa molto bene perché è stata una delle animatrici di questa esperienza abbiamo scelto di organizzare un festival dei beni confiscati proprio per aprire i beni alla città farli scoprire e molti studenti e studentesse come voi hanno partecipato negli anni a iniziative dentro ai beni per conoscere le storie di quei beni adottarli in qualche modo farli conoscere e raccontare quello che accade quindi questo è il primo punto il secondo è il valore sociale del riutilizzo dei beni che dal mio punto di vista ha due aspetti importanti come potenziale il primo rispondere a delle domande sociali perché questo è importante perché spesso le mafie alimentano il loro consenso la loro forza anche di fronte a problemi sociali che non trovano risposta da parte delle istituzioni e allora riuscire invece a avere più forza attraverso degli immobili anche per rispondere alle domande sociali è un modo di aumentare la coesione sociale rafforzare i legami e forse togliere un po' di terreno di ossigeno al possibile sviluppo delle mafie e come li utilizziamo? per l'accoglienza noi abbiamo tantissimi appartamenti o immobili che sono destinati all'accoglienza di persone con disabilità persone di origine straniera persone in emergenza abitativa in via Mosso che forse conoscete di fronte allo spazio mosso tra via Padova appunto e il parco Trotter c'è una palazzina abbandonata da molti anni è un bene confiscato che richiedeva molti soldi per ristrutturare siamo riusciti a trovarli anche grazie a un finanziamento europeo e lì nascerà un polo di accoglienza per affrontare l'emergenza abitativa delle famiglie quindi famiglie che hanno perso la casa avranno lì un luogo da cui ripartire quindi sono cose molto molto concrete ma c'è un secondo aspetto al di là delle attività più assistenziali sociali in senso stretto che può valorizzare l'utilizzo dei beni che è quello di rafforzare la cosiddetta economia civile i beni possono essere uno strumento importante per la cooperazione sociale per il terzo settore non solo di rispondere a bisogni sociali ma anche per promuovere buona economia economia sana e quindi imprese sul territorio che fanno del rispetto delle regole della circolarità della sostenibilità e quindi anche dell'eticità dei fini di quelle imprese una delle loro dei loro compiti allora l'economia civile che forse l'avversario più potente contro le mafie contro la logica del profitto fino a se stessa anche nell'accessione mafiosa l'economia civile è un modo di affermare un'economia diversa più virtuosa che può dare forza al nostro tessuto sociale per noi come città questo è molto importante perché come il presidente Roia e il procuratore Viola ci hanno detto con molta chiarezza all'inizio dei lavori di questa mattina ovviamente una città così ricca come quella di Milano dove avviene il 45% degli investimenti immobiliari del nostro paese è evidentemente un luogo d'elezione per le mafie e quindi questo è un luogo in cui dover costruire con ancora più forza anche anticorpi sociali di consapevolezza attraverso questi strumenti avevo promesso che l'avrei fatta breve quindi mi fermo qua grazie grazie tifo da stadio per Lamberto Franco Latorre avete sentito citare Pio Latorre la storia di Pio Latorre la legge importantissima sui beni confiscati di cui ancora oggi appunto si fa tesoro in qualche modo la sta ancora divulgando Franco Latorre Fidio che ha scritto anche molti libri su questo tema oltre a raccontarne la storia appunto a studenti e studentessi volevo citare ne ha scritti tanti di libri ma volevo citare sulle ginocchia Pio Latorre una storia edito da Melampo che è proprio la storia di un padre di un padre particolare che ha avuto una storia terribile ma importantissima grazie per essere qui con noi Franco e lascio a te la parola grazie grazie buongiorno tanto grazie alle volontarie ai volontari di Wikimafia che hanno reso possibile per il secondo anno consecutivo questo straordinario appuntamento e per avermi invitato a dare il il mio piccolo contributo grazie per Paolo per Paolo Farina il direttore di Wikimafia e grazie per aver aperto questa mattina con quella bella sessione dedicata a due figure straordinarie il cui impegno civile democratico per la piena attuazione dei nostri diritti costituzionali ci illumina la strada perché Giorgio Boris Giuliano e Giorgio Ambrosoli sono dei pilastri della nostra Costituzione che ricordiamo è il principale strumento di lotta contro il sistema di potere politico mafioso che fa strame dei nostri diritti fondamentali perché abbiamo bisogno di un lavoro in quei territori dove quel sistema di potere comanda dobbiamo andarlo a chiedere non è un diritto e ci viene concesso dal boss di turno il farmacista l'avvocato il sindaco dipende veste abiti diversi dipende dai contesti e state sicuri che in cambio del lavoro si fregano un secondo diritto costituzionale perché vi chiederanno di votare per qualcuno la libera espressione del voto via e la lista dei diritti violati è lunga il diritto alla salute in quei territori i direttori delle aziende sanitarie locali non si occupano della nostra salute ma degli interessi delle imprese di quel sistema che devono vincere gli appalti il diritto a vivere in un ambiente sano andatelo a chiedere a chi vive in quella che una volta era chiamata la campagna Felix uno dei territori più straordinari più belli del nostro paese oggi noto come la terra dei fuochi perché lì imprenditori senza scrupoli hanno deciso servendosi degli apparati criminali di sversare rifiuti tossici e pericolosi per evadere la tariffa il diritto il diritto all'informazione l'articolo 21 la libera espressione quanti giornalisti uccisi quanti giornalisti sotto scorta insomma la lista la lista dei diritti fondamentali della nostra carta quel sistema li viola quotidianamente quindi grazie per aver aperto con questa sessione io ho preso due appunti beh il primo che mi consente di rinnovare scusa Pierpaolo non è piageria ma perché sono molto felice di essere qui oggi perché sono insieme ai protagonisti di un primato assoluto perché l'Italia ha un primato assoluto è il paese più antimafia al mondo non c'è dubbio non c'è dubbio e questo si deve grazie a voi all'impegno di voi oggi studenti domani pilastri della nostra società non che oggi non lo siate perché sulle vostre spalle avete il peso dei debiti che noi la generazione precedente abbiamo accumulato e che vi stiamo lasciando a differenza dei diritti che noi la generazione che è venuta prima di voi abbiamo ricevuto dai nostri genitori è stato un cortocircuito quello che ci ha visto protagonisti il 416 bis quella norma a cui si è fatto riferimento quella che introduce nel codice penale il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso oltre a descrivere bene le caratteristiche dell'associazione mafiosa segretezza potere di intimidazione ed omertà individua anche i reati tipici voi penserete forse al traffico internazionale degli stupefacenti no è un altro articolo del codice penale all'usura no è un altro articolo del codice penale estorsioni no traffico di organi di armi no 416 bis individua la specificità del reato di quell'organizzazione criminale che mio padre amava definire un fenomeno di classi dirigenti infedeli alla costituzione perché dobbiamo andare oltre gli stereotipi senza nulla togliere a quelle mani che grondano di sangue dei quei killer che hanno sterminato un'intera classe dirigente democratica del nostro paese la mafia è fatta da chi ha potere imprenditori uomini delle istituzioni si spesso sono maschi chi ricopre incarichi politici chi controlla i processi decisionali ed ecco la specificità del reato appalti e concessioni quello dice il 416 bis cioè che quel sistema di potere si appropria illegalmente del bene comune perché gli appalti e concessioni sono gli strumenti amministrativi che consentono alla pubblica amministrazione di fare qualcosa per noi costruire ponti case ospedali è lì che quel sistema di potere si insinua forte della sua articolazione e ricorre al totorina di turno per eliminare l'ostacolo certo poi il totorina di turno ci guadagna con la ditta di movimento terra e che ha scritto quella norma ricordava bene quello che era accaduto nella Palermo degli anni 50 quando il capologo siciliano era retto dalla giunta guidata dal sindaco Lima e dall'assessore ai lavori pubblici Vito Ciancimini il bel libro del professor Chiudelli che sto per finire mi mancano le ultime 20 pagine sembra un libro giallo almeno io lo leggo così grazie professore davvero perché è una piacevole lettura molto intrigante vuoi andare a vedere come va a finire e infatti mi sono riservato le ultime 20 pagine per oggi pomeriggio aveva bene in mente il sacco di Palermo qui si fa riferimento nel titolo della sessione a un bellissimo film di Francesco Rosi le mani sulla città la città era Napoli anch'essa protagonista di una straordinaria speculazione edilizia Palermo non ha nulla diciamo di cui vergognarsi in questa classifica pensate bene quella giunta lì in una sola notte approvò alcune migliaia di concessioni edilizie di permessi a costruire che alimentò diciamo il lato economico ma anche quello politico di quel sistema di potere perché attraverso il sacco di Palermo classi di reggenti infedeli alla Costituzione hanno costruito i loro capitali e la loro carriera fatemi dire due cose su beni confiscati e poi finisco sì lo diceva bene la dottoressa Ronchi mio padre amava ripetere questa frase se la finalità della mafia e l'illecito arricchimento noi è lì che dobbiamo compiere lì è per questo che il 416 bis è corredato di quelle norme chiamate le misure di prevenzione cioè quello che consente ai magistrati di porre sotto sequestro e poi al termine dell'iter sotto confisca i patrimoni illecitamente accumulati vi ricordate questa mattina il presidente del tribunale di Milano ricordando la sua pregressa esperienza come presidente del tribunale delle misure di prevenzione diceva il criminale quando si deve difendere dall'accusa e quindi cercare di evitare l'aggravamento della pena perché il 416 bis che cosa fa aggrava la pena se tu hai commesso un reato e lo fai come organizzazione mafiosa prendi più anni e lì c'è un avvocato in genere ma ci ricordava invece dice il presidente del tribunale che quando si discute delle misure di prevenzione gli avvocati sono molto di più e molto più bravi perché è vero è quello che temo principalmente e allora in materia da trattare con grande delicatezza la dottoressa ronchi ci ha raccontato la genesi e il funzionamento dell'agenzia dei beni confiscati mi permetta dottoressa ci stimiamo ci conosciamo ci frequentiamo di evidenziare alcune criticità perché nel lavoro degli esseri umani sappiamo che è fondamentale apprendere dai propri errori se no la scienza il progresso non andrebbe avanti è quello che il metodo scientifico ci insegna sbaglia non ti preoccupare poi riprova 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 e alla fine alla fine impariamo tutti ad avvolgere gli spaghetti con la forchetta perché nessuno nasce insegnato no? allora parliamo di un patrimonio straordinario è un patrimonio straordinario continuo con l'aggettivo straordinario perché non riesco ad aggiungerci qual è il valore noi ancora oggi abbiamo la cassaforte piena piena di valori e non riusciamo ancora a dire ma quanto ci abbiamo dentro questa cassaforte sì ci sono delle stime miliardi di euro ma sarebbe importante che lo Stato sapesse quanto ha messo da parte questo ancora diciamo non non riusciamo a farlo problemi tecnici banche dati però secondo me è uno degli obiettivi che dobbiamo raggiungere cioè quantificare effettivamente il nostro patrimonio perché nessuno di noi dentro questa sala ignora quanto ha in tasca alcuni non hanno niente altri hanno un euro altri dieci euro ma ognuno di noi ha contezza di quanto possiede lo Stato non ha contezza di quanto possiede rispetto ai beni confiscati c'è un problema di tempi l'iter l'iter giudiziario amministrativo che porta dal sequestro alla confisca è lungo è lungo certo bisogna rispettare il diritto non c'è dubbio però il risultato è che un oliveto un agrumeto un vitigno tu lo confischi che ancora produce e lo assegni quando lo devi estirpare una casa la sequestri che è abitabile quando la assegni la devi ristrutturare costi costi che ci porta al discorso dei fondi dato che sono in queste condizioni perché l'iter è lungo perché bisogna rispettare tutto le norme benissimo poi però come ci ricordava la dottoressa e poi sono necessari degli investimenti beh non è stata una bella notizia leggere che i fondi destinati non si parla di cifre miliardarie 300 milioni previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza assegnati proprio a questa partita recupero dei beni confiscati non ci siano più non è una bella notizia mi dispiace abbiamo iniziato con le belle notizie siamo i primi nel mondo e qui in questo caso non è una grande notizia e poi c'è un aspetto diciamo di contorno che gira attorno alla partita dei beni confiscati siccome c'è un pezzo d'Italia a cui questa norma non piace sicuramente minoritaria ma non per questo poco influente non dobbiamo mai dimenticarci che quell'avversario lì quel sistema di potere è forte e se noi vogliamo combatterlo dobbiamo essere più forti di lui più uniti più capaci più consapevoli lo dobbiamo conoscere stiamo assistendo da un po' di tempo a una pubblicistica si dice così articoli libri ma anche iniziative legislative volte volte ad annullare l'efficacia delle misure di prevenzione ve la faccio breve il magistrato decide di sequestrare i beni che lui ritiene illecitamente accumulati senza aspettare la sentenza del procedimento penale mi accusano non so se mi arrestano mi confiscano i beni ma io ancora non sono stato condannato cosa che nel resto d'Europa non sempre è possibile la direttiva europea in questo senso seppur quella nuova fa dei passi in avanti ancora c'è questa diciamo frizione tra il diritto famoso habeas corpus la mia proprietà non me la potete toccare a meno che non dite che io sono un criminale con sentenza definitiva invece l'Italia ha questa caratteristica che è un procedimento amministrativo parallelo indipendente dalla sentenza di ordine penale bene ci sono iniziative legislative volte a dire no no il bene si confisca quando c'è la condanna definitiva sapendo come funziona la giustizia in Italia uno dice beh chissà ma non è tanto quello l'efficacia della norma sta proprio nella sua concezione originaria quella di ritenere che il magistrato possa procedere indipendentemente dalle conclusioni del procedimento penale la mafia oggi si l'abbiamo sentito ripetere tanto cos'è la mafia oggi beh io ho una opinione la mafia di oggi è uguale a quella di ieri fatto salvo quel periodo breve che ha insanguinato il paese delle grandi stragi la mafia è sempre stata la stessa sotto traccia fa affari oggi continua a fare quello che ha sempre fatto perché quando Michele Sindona apre la sua banca che cosa stava facendo mica andava in giro con la coppola e la lupara a minacciare i cittadini invitandoli ad aprire un conto corrente lui offriva l'opportunità attraverso un grande strumento finanziario parliamo di 50 anni fa la mafia è sempre quella grazie grazie a franco la torre grazie estere grazie per paolo per questo bellissimo dibattito grazie a tutti grazie a tutti